Allora, quest'anno che cosa si regala per Natale? Si parla un po' in anticipo? Stiamo girando, ancora non lo sappiamo. Ma si pensa a cose utili? Utili sempre, senz'altro. Senta, io non faccio regali, mi dispiace, l'è capitato proprio... Ma fa bene. Allora, invece stessa posizione? Siamo marito e moglie, quindi... Comandano le donne. Comandano le donne, poi lei non vuole niente, quindi io so a posto. Abbiamo abolito i regali. Lo festeggeremo sicuramente in famiglia, con parenti, amici stretti, per regali. Vedremo, vedremo un po' il budget, quello che abbiamo a disposizione. Si pensa all'utilità o a cose futili? Tutte e due. Un po' all'utilità e qualche cosina di futile ci sta a Natale, perché no? Sicuramente non lo so. Idee chiare e concise? E quello ho fatto, è trovarle. Come pensi di festeggiarlo? A casa? Eh sì, in famiglia. Beh, per la mamma magari potremmo fare una borsa e passiamo il Natale insieme in famiglia, in Puglia. Ah, bellissima! Quindi, qual è il piatto tipico pugliese? Beh, se parliamo di pranzo possiamo pensare alle orecchiette con le cime di rapa, oppure la classica focaccia con pomodori e olive. Senti, però la parola orecchiette me la devi dire fatta bene. La parola orecchiette me la devi dire fatta bene alla che cozzalone. Le orecchiette con le cime di rapa. Penso di fare una settimana bianca insieme ai miei familiari e lo posso insieme a loro. Ah, bellissimo! Dove, se mi posso permettere, dove pensate di andare? Il posto ancora non l'abbiamo deciso, però pensiamo di andare là, cioè in settimana bianca. Idei per il Natale? Stare con gli amici e in famiglia e regali tra gli amici più importanti. L'importante è stare in famiglia e essere felici. E questo è cosa buona e giusta. Alla tua migliore amica che cosa regali? È difficile da scegliere perché vorrei fare un regalo molto speciale. Ci vuole un po' tempo per pensarci. Già l'affetto e il pensiero è tutto quello che conta, giusto? Ok. Senti, come vive la vostra generazione? Tu hai 18 anni e come vive la vostra generazione il Natale? Penso molto normale comunque. Si pensa sempre di stare in famiglia o con gli amici soprattutto. Grandi luminarie, si sente l'aria del Natale. Lei ha già qualche progetto per Natale? In merito ai regali o in merito a come festeggiarlo? Sto aspettando un regalo per delle nostre amiche e i progetti per il Natale è la famiglia, quindi stare in famiglia come sempre. Allora qui ci serve una cosa importante. Che regalo stanno facendo? Regali in genere accessori, soprattutto accessori per donna. Noi donne... Sì, siete molto esose. Avete qualche piatto tipico di tendè che generalmente mangiate solo a Natale? No, solo a Natale no, fortunatamente no. Però tradizione è pesce a vigilia e poi facciamo la carne al Natale. In genere è salmone, gamberoni, cose normali. E' stare in famiglia come tutti gli anni. Famiglia e cercare di ricreare l'atmosfera familiare. Tipica del Natale. Tipica del Natale. Ci piace condividere tutti gli anni. Tanto noi non lo diciamo a nessuno. Ha qualche idea per i regali? Stavamo valutando qualcosa, ma per fortuna non ci manca nulla, quindi solamente un pensiero per la famiglia. Niente di che... L'importante è stare in famiglia? Sì, sì. Abbiamo la necessità di ritrovare l'armonia che in questi anni abbiamo un po' tralasciato. C'è un piatto tipico che mangiate? Il piatto tipico di questa zona? Io non sono di Civitavecchia, ci abito da qualche anno. So che il piatto tipico del Natale sono i biscottini, quindi quelli sono... Qual è il reale termine tecnico del biscottino alla Civitavecchiese? Ci provo, eh, ci provo. Le biscottine. Bravissimo, l'hai detto bene. Bravissimo. Grazie mille. Grazie. Grazie.